ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video pts sempre linea 12 non abbiamo questo solaris urbino 12 a nostra disposizione per questo oggi e neanche la scritta parmafoniano perché come ho già detto siamo sempre sulla linea 12 ma non siamo in quella linea di trasporto la destinazione e oggi abbiamo ritorniamo con il solaris urbino 18 sulla linea che va all'anghiera langhirano parma col caniano è la nostra di oggi ricontrollare sempre una volta in più stiamo ancora dentro la città perché il nostro turno inizia in città non già in collina e ne ne abbiamo cinque poi quando sbloccheremo le montagne innevate che quando avevo il vecchio telefono l'avevo fatto e avevo sbloccato dopo questo qui per fare 12 langhirano è più bello perché ci sono le necce sulle montagne siamo in montagna ciani anche se ultimamente non nevica più neanche nei posti collinari e alpini e appennini si non nevica questo non è il vero e proprio solaris però a parma nella mia zona dove c'è questa azienda qui di trasporti questo autobus è quello che ci assomiglia di più di pts rispetto a quello della mia città anche se c'è cinque porte vabbè l'avevo anche scritto l'altra volta in qualche altro video di pts con quest autobus quindi in alcuni possiamo solamente ipotizzare immaginare quelli reali il mercedes comunque è praticamente quasi identica parte le porte che anche anziché aprirsi verso l'esterno si piegano all'interno un po come questo che questo qui nella realtà il solaris si apre verso l'esterno un po' 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 Poi alle 15 uscirà il video di FIFA Se avete letto il titolo perché è già stato caricato questo video qui l'ho caricato ieri se l'avete visto nella home del canale abbiamo vinto il mondiale piccolo spoiler abbiamo vinto il mondiale col Brasile non vi dico come è andata la partita però abbiamo vinto non vi dico il risultato altrimenti capite bene che se vi dico già tutto il video ancora prima che esca il video è chiaro che ormai dopo quel video guardate come è già stato detto allora quindi vi dico che abbiamo vinto abbiamo vinto il mondiale appunto perché era la finale e basta con l'Inghilterra inizia anche a piovere e comunque vi devo dire che dell'autobus che ha l'azienda di trasporti della mia regione provincia non ragione provincia questo autobus che stiamo guidando adesso noi il Mercedes sono uno degli autobus più belli sono gli autobus più belli che hanno il Mercedes è il mio preferito in termini di comodità e cosa anche questo qui è bello spazioso e poi vabbè da 2020 e 2021 ci sono anche gli scagna sempre da 18 metri che anche quelli lì sono belli però ci hanno qualcosa che non mi piace magari ve lo dirò quando faremo un video con quello lì con quello scagna abbiamo finito questa nostra piccola parte di questo percorso di questa linea qui 12 langherano parma corcaniano quindi niente noi ci vediamo più tardi con il video di FIFA del mondiale col Brasile e poi domani e sabato e domenica con gli altri video in programma nel video di domenicale che avevamo fatto che ho fatto all'inizio della settimana il primo gennaio ok quindi per questo video è tutto io vi ricordo che se volete lasciare una bella iscrizione ai contenuti che porto con una bella campanellina siete liberi di farlo la campanellina per i video che usciranno in futuro aiuta perché così vi compare la notifica e quindi non vi potrete mai perdere i video l'iscrizione è fondamentale per me così mi aiutate a crescere visto che siamo a 139 su 150 iscritti l'arco da raggiungere che avevamo stabilito che ho stabilito quando avevamo raggiunto i 125 in precedenza una bella condivisione così potete quindi dare il video che volete un bel mi piace se vi è piaciuto e anche un bel commento per dire la vostra e quindi è tutto noi ci vediamo domani e più tardi oggi pomeriggio all'Itra un saluto